A bella raga ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Tralasciando il casino incredibile che vedete alle mie spalle Quest'oggi ragazzi siamo qua con un video su fortnite Un sacco di voi mi avevano chiesto di tornare a fare qualche video su fortnite quindi eccoci qua La partita che vedrete oggi ragazzi è stata fatta un paio di settimane fa il live su twitch Che tra l'altro vi lascio in descrizione che molto raramente faccio delle live la però E mettete il cuoricino così casomai vi arriva la notifica anche la Comunque non giocava fortnite da ben due mesi e alla primissima partita è successo questo Quello che vedrete in questo video quindi senza dilungarmi in chiacchiere vi lascio la partita Ma prima mi raccomando un bel like se non l'avete fatto attivate anche la campanellina delle notifiche E ovviamente un'iscrizione tattica tattica se siete nuovi e nulla raga vi lascio alla partita Bella raga Oddio che strano tornare su fortnite oddio che strano davvero Oh mio dio non gioco fortnite tipo vabbè da quando c'è stato l'evento del cactus Andiamo vecchio scialle Andiamo qua andiamo a fare robe incredibili No vecchio dai fili porta arrivo l'ho ucciso io mi ha disintegrato con una mitraglietta soli vediamo se mi ricordo ancora come si fa e l'altro di cosa è morto l'ho ucciso io incredibile mi ricordo ancora come si fa o cazzo rola sono morto ora prova a scappare in qualche modo non puoi di pure animarmi sì sì devo andare in un autobus ce n'era uno lì davanti però ci sono i tipi quindi e poi devo anche io curarmi adesso mi cura poi vedo se riesco vecchio comunque se la vinceva è da canale questa non faccio non gioco da mesi io ti ho lasciato l'arma io non ho colpi ma qua intanto c'è una cassa prendita o gente che vola devo volare non ho colpi niente e che c'è gente che è atterrata ho distrutto un po' l'altro è arrivato addosso vai dio caro cazzo di pompa uno qua da me sta facendo uno lo vedo lo vedo ho fatto il modo scuso i vecchi sono sotto sul carico sul carico perché ti giuro che non pensavo di cavarmela due volte ti giuro che ho quattro assist o gente che niente era un tipo sono a 255 e sono one shot perché si stanno curando intensamente ho perso un po' di velocità c'è gente si? si un po' da mano si un po' da mano si un po' da mano 16 vada dai scusate la tela capisco io devo jumpare perché sennò muoio sicuro ho finito di mazza porco dino ho detto ma ops baiato no vaffan bellissimo eh lo so ma io volevo fare un'altra cosa beh qui è qui Ah, sono le zombie Tutti questi rumori sono zombie Sono anche umani No, anche nemici Ma lì sotto Sto capendo niente Sì, sono Sì, sono Sì, sono Sì, sono Sì, sono Aiuto Fra, non ammazzo Come cazzo la faccio a vincere Non ucciderò Cioè, non so davvero come farò In qualche modo farò Si stanno fightando tra loro Se me la giustisco bene, forse Oh Guarda, ce l'avevi fatto da un po' Sono un po' fatto Quello che vi dici, no? Pure a terra Madonna mia Madonna mia, madonna mia Non ho materiali, non ho niente Sì, ho visto Sì, ho visto Oh, vecchio Eh, adesso non so che muori No, ora voglio dare l'ultima partita Zì, così È un culo assurdo È andata a vota per questa nostra Dopo mesi e mesi e mesi Così Lui è caduto sul tuo razzo Fra, ma anche senza matto Ho avuto un culo incredibile Due di vita Due di vita Cose Ma voglio dare da quanto non giocavo, fra Ti giuro che non giocavo da mesi Guarda 10 stelle pass battaglia Livello 2 Così È tutto Lui, prima partita Dopo quanto Vediamo E replay Vediamo se me lo dice Forse neanche me lo dice Da tantissimo tempo No, invece me lo dice Vecchio No, in realtà sono due mesi Pensavo di più Sì, che poi in realtà due mesi Ma quella prima ancora Era due settimane prima Comunque Wow Non giocavo da due mesi La mia vita Così Va bene